La riposta era sempre la stessa, e cioè che ogni mia energia doveva in quel momento essere riposta nella mia battaglia. Andando avanti, ma già da subito, ho iniziato ad approcciarmi con la realtà delle carceri, che fino a quel momento ignoravo. Perché mi sembra come la maggior parte delle persone, le carceri sono realtà volutamente lasciate fuori dall'opinione pubblica, per motivi immagino ben obbi. Ho iniziato a capire cosa sono le nostre carceri, che oggi sono ridotte ormai a delle vere e proprie discariche sociali, dove persone spesso con poca o nessuna pericolosità sociale finiscono lì grazie a delle leggi criminali, che io definisco criminali, come la Fini Giovanardi, per esempio, o la Bossi Fini, e dove sicuramente, difficilmente, finiscono i ricchi, i potenti, coloro che hanno i soldi per pagarsi un buon avvocato. Una realtà dove la piramide sociale è invertita, e quindi tanto più si è un criminale pericoloso, tanto meglio si viene trattato, quanto più si è un cosiddetto ultimo, un tossicodipendente, per esempio, un extra comunitario, e tanto più i ricchi vengono calpestati in maniera sistematica e che rientra in una imbarazzante normalità. Il direttore di un carcere ammettere con un'aria di normalità imbarazzante che nel carcere e per la vita del carcere, per l'andamento del carcere, sono più importanti i problemi di piantonamento piuttosto che la vita di un detenuto. La burocrazia, prima di tutto, prima della vita umana, prima del rispetto per la vita umana. Queste sono purtroppo le nostre carceri. E non potevo immaginare che di carcere si potesse morire. Io ero bambina e sentivo già parlare del problema carceri e lo ascoltavo con un certo distacco, perché mai credevo che la cosa avrebbe riguardato anche me. Sono passati vent'anni, sono cresciuta e nel frattempo mio fratello è morto di carcere. E in vent'anni e per vent'anni io ho sentito fare tanti programmi, tante proposte di legge, tante idee, tante delle quali le condivido. Ma in vent'anni non è cambiato nulla, non è stato fatto assolutamente nulla per il problema carceri. E mentre noi facciamo tanti programmi, la gente in carcere continua a morire. E questo direi che è diventata una situazione intollerabile. Intollerabile perché se vogliamo veramente pensare di poter essere un paese civile, dobbiamo necessariamente a questo punto affrontare anche questo problema. Il problema carceri, il problema del sovraffollamento, il problema del trattamento dei detenuti, ma anche il problema della gestione dell'ordinario lavoro di coloro che sono all'interno del carcere, degli agenti di polizia penitenziaria. Questa mattina, assieme a delle consigliere regionali, abbiamo provato ad entrare nel carcere di Sollicciano. Sarebbe stata la prima volta per me dentro un carcere. Ci provai subito dopo la morte di mio fratello, anche in maniera molto ingenua, chiesti se potevo entrare perché avevo bisogno di ricostruire quei momenti e mi fu spiegato che non era possibile. Stamattina attendevo questa visita per capire nel concreto tutto ciò che ho sempre visto da fuori o che ho preso dai racconti. Non è stato possibile, sempre per gli stessi motivi di burocrazia. Però abbiamo avuto un incontro con il direttore di questo carcere e un confronto con loro perché sulla polizia penitenziaria si punta il dito sul sistema, sul sistema che crea intanto tutto ciò che vi ho detto rispetto all'ambiente carcere e al trattamento dei detenuti. Sicuramente che crea questo problema di cultura, sicuramente che a causa del sovraffollamento da una parte e del sottodimensionamento degli agenti dall'altro, crea una difficoltà a gestire l'ordinario da parte loro e crea una difficoltà a gestire i singoli momenti per chi è detenuto. La logica è un periodo di tempo che chi ha commesso un crimine deve passare in carcere per riflettere su quello che ha fatto, magari per redimersi e sicuramente questo oggi non avviene nelle nostre carceri, non avviene perché spesso i detenuti sono quasi uno sopra l'altro, motivate, devono essere recuperate. Poi però ci viene detto che non c'è abbastanza personale per gli spostamenti, un po' come è successo a mio fratello perché non c'era il personale per il piantonamento, per 4 ore è stato lasciato con la schiena rotta su una panca di ferro, senza che nessuno si ponesse il problema di capire cosa gli stava succedendo, si passavano piuttosto gli ordini da una stanza all'altra. La burocrazia che rende tutto molto troppo disumano, eppure quelle però sono delle persone, non possiamo continuare a voltarci dall'altra parte e a far finta di niente, bisogna prendere delle decisioni nette, chiare e prenderle subito, bisogna trovare la volontà di intervenire e subito, sicuramente con l'abrogazione delle leggi che citavo prima, sicuramente con una proposta di amnistia per i reati minori, il termine amnistia può far paura, io da mamma pensare che tutti i criminali se ne escano e non è questo, ovviamente è un'amnistia ragionata, che però consentirebbe a coloro che stanno lì senza reali motivi e non costituendo un pericolo per la società di continuare a sovraffollare le nostre carceri, non si può sicuramente pensare di risolvere il problema carceri costruendo nuove strutture, non è questa la soluzione, ne parlavamo anche stamattina, perché sarebbero posti che andrebbero a riempirsi di nuovo se non cambiamo i meccanismi per cui la gente finisce lì e allora immaginare delle strutture di recupero esterne per i tossicodipendenti dove veramente possano affrontare il loro problema di tossicodipendenza, immaginare di smetterla di vedere la clandestinità come un reato, ma prima di tutto questo ci sono mezzi che possiamo già mettere in atto se abbiamo la volontà, chi ci governa se ha la volontà lo può fare, abbiamo leggi come la Cozzini per le misure alternative che già in qualche modo risolverebbero il problema del numero di detenuti all'interno delle carceri. Quello che abbiamo scoperto oggi è imbarazzante, un carcere che ha una capienza di 470 posti ne contiene ospita mille detenuti, mille detenuti è veramente una cosa inaudita, possiamo immaginare come vivano i detenuti in quella realtà. Giustizia che è forte con i deboli e deboli con i forti e grazie a questo può succedere che le vittime del reato nelle aule di tribunale se non hanno la fortuna di incontrare i pubblici ministeri coraggiosi come il nostro, coraggiosi di quelli che non fanno sconti a nessuno, onesti intellettualmente e fortunatamente ce ne sono tanti nel nostro paese, ma se non hanno questa fortuna può succedere che si trovino in quelle aule a doversi difendere da pubblici ministeri che lottano contro di loro, che lottano contro la verità, quando i processi sono processi contro i poteri forti, miro perché in questi giorni noi stiamo assistendo a dei veri e propri scandali, scandali, uno schiaffo al sacrificio che è stato chiesto a tutti noi cittadini italiani, quelli sono i magistrati da ammirare, anche se da qualche parte cominciano ad arrivare le critiche dicendo che affossano l'economia del nostro paese, vi rendete conto con che metro vengono misurate le cose, è tutto assolutamente squilibrato e allora le esperienze che riguardano nelle loro varie sfaccettature tutti gli aspetti della quotidianità dei cittadini normali e provando in qualche modo a restituire alla politica il suo antico senso, perché questo lo abbiamo perso, dobbiamo imparare e tornare a mettere l'uomo al centro di tutto, è da qui che dobbiamo battere, perché oggi sentiamo parlare di tutto fuorché di questo e allora questa sarà la mia battaglia e se mi sarà consentito di arrivare in Parlamento porterò avanti tutto questo, porterò avanti sicuramente e da subito una proposta di legge per il reato di tortura, perché è grave, gravissimo che l'Italia ancora non l'abbia introdotto, abbiamo ricevuto pressioni, solleciti, ma in Italia si preferisce prendere le sanzioni e continuare a ripetere che da noi il reato di tortura non serve, non è che noi siamo meglio degli altri, il reato di tortura serve, assistiamo purtroppo spesso a reato di tortura, ad atti di tortura. Vi chiedo però, vi voti di tempo di fare delle domande abbastanza brevi, ok? Per dare la possibilità a più persone. Volevo chiedere una cosa molto interessante, il ragionamento, seguendo la politica negli ultimi giorni e negli ultimi tempi c'è sempre il dilemma, è meglio Berlusconi a comandare magari un partito piccolo, un Parlamento o meglio una sinistra classica, diciamo, maggioritaria che garantisca un minimo, perlomeno un minimo di legalità. Berlusconi ha detto chiaramente in questi giorni che nei paesi sottosviluppati, in pratica è facile, è anche scontato che ci siano le mazzette, ci sia la corruzione, cioè se si pensa all'Italia noi siamo veramente sottosviluppati.